salve carissime amiche ed amici miei dal vostro capitano sant'en chan vi auguro con anticipazione a tutte e tutti voi una felice vigilia di natale e un felice sereno e prospero natale di questi momenti che ne abbiamo vissute di crude ricotte spero che a tutte e tutti voi vada bene che ci va di bene a tutti in queste epoche di restrizioni che si fa un passo in avanti due indietro insomma mi avete capito cerchiamo di superare questo brutto momento di poter festeggiare assieme a tutti i nostri cari e spero che tutto questo questa faccenda che altrimenti se la nomino youtube mi può anche cancellare il video e quindi non nominerò ha fatto tutto quello che è successo dal 2020 poi ma voi lo sapete bene e che ci ha fatto molto soffrire a tutti per varie ragioni ecco io adesso desidero a tutti voi augurarvi con tutte le mie forze che questo natale ci veda più uniti più allegri più buoni una società migliore e che tutti i problemi vengano superati risolti quindi desidero a tutti quelli che mi seguono e anche a tutti quelli che non mi seguono agli iscritti e ai non iscritti a quelli che mi vedono occasionalmente una felice vigilia di natale e un felice buon natale e poi mi raccomando ve lo dico alla fine condividiate questo video dategli like o dislike perché ormai non conta più in youtube commentatelo così anche ci possiamo conoscere tra di noi io verrò a vedere i vostri video voi andrete a vedere i video di altri iscrivetevi al canale azionate la campanella per conoscere le novità e se non ci sono novità su questo canale almeno andate a vedere i miei video vecchi ne ho quasi 1200 e poi se potete abbonatevi per sostenermi oppure sotto questo video c'è il bottone grazie un cuoricino con il dollaro dentro e siccome uscirà in premier anche se durerà pochi minuti e potete mettere uno uno sticker oppure un super chat e questo vale anche per tutti i video che usciranno in seguito ho fatto molte live ripetutamente adesso invece voglio iniziare a caricare di nuovo delle premier che vengono più creative perché nelle live gli spettatori mi interrompono salutandomi mentre invece nelle premier non succede questo poi ho levato un sacco di moderatori delle chat perché c'è stato qualcuno che strometteva dei miei amici che parlano in inglese e allora questo non è giusto fare moderatore qualcuno di una chat perché cacci via dalla chat gli altri persone che intervengono per la prima volta si vedono estromessi dalla chat da qualcuno che vuole fare il grazioso e adesso non è più moderatore della chat nessuno perché non so chi sia stato così ci hanno rimesso tutti ma comunque se volete collaborare con me datemi il vostro gmail che io vi permetterò di caricare i vostri video nel mio canale se avete pochi spettatori ne acquistere ne acquisterete moltissimi grazie a me comunque ancora una volta se non viene troppo pesante questo video poi lo sto facendo in full hd vi saluta il vostro capitano santen chan e vi augura di avere un felice natale una felice vigilia di natale e poi ci rivedremo prima dell'anno nuovo prima di capodanno e mi raccomando festeggiate in famiglia fate i bravi non uscite in affollamenti di massa queste cose qua perché il rischio ancora c'è e non so se ritorneremo stare rinchiusi un'altra volta per colpa di qualche irresponsabile allora arrivederci grazie già è venuto un video di cinque minuti ciao felice natale a tutti felice vigilia di natale io lo carico in anteprima e probabilmente prima voi potrete guardare un trailer sempre di auguri di natale e poi metterò fra i video consigliati video di auguri di natale e fra le schede a fine video video di auguri di natale tanto per cambiare di tema salute a tutti mi raccomando la salute a volte è la cosa che più preziosa oltre il tempo perché il tempo è un bene diciamo non rinnovabile il tempo della nostra vita passa come sono già passati sei minuti ciao a sta la vista dal vostro capitano santenciano e buona vigilia di natale buon natale a tutti ciao